A Fiume Freddo di Sicilia si è risorta con una solta di nulla di fatto la seduta consigliare di giovedì sera con l'attività ispettiva. L'assenza dell'ex sindaco Sebastiano Nucifora, unico proponente di interrogazioni, ha fatto saltare lì la seduta che era dedicata proprio all'attività ispettiva. Tuttavia il civico consesso Fiume Freddese tornerà a riunirsi prima della fine dell'anno, perché si deve completare il discusso regolamento sul casale Papandrea e bisognerà anche trovare una soluzione alla questione del servizio idrico. Tutti problemi che non possono essere rinviati con lo stesso sindaco Marco Alosi che spinge in questa direzione. Sindaco Alosi che procederà al rimpasto a gennaio. Mentre salgono le quotazioni di Mario Strano per la riconferma, la papabile ad uscire. Sembra a questo punto Rita Arcidiacono. Per la sua sostituzione si cercherebbe in ambito PD.